Forte preoccupazione da parte delle numerose famiglie per l'incendio avvenuto nel comune di Castel di Sasso, ai confini con il comune di Ponte Latone, in un deposito di rifiuti speciali. Il rogo, per cause non ancora chiare, è avvenuto nella notte fra venerdì e sabato scorsi. Fumo denso e fiamme alte poi sedate solo in parte dai vigili del fuoco di caserta che stanno lavorando da oltre 36 ore. Il rogo però continua a sprigionare fumi e questo preoccupa numerosi cittadini del luogo che chiedono a gran voce un intervento più incisivo.